Musica Da Ateli Sant'Anno Cronache una buona serata. Tutti calano di qualche unità i contagi da coronavirus nella nostra regione. Questo, secondo gli esperti, potrebbe essere il segnale che si stava aspettando per vedere decrescere la curva pandemica. Ancora alto invece il numero dei ricoveri in ospedale. Proseguono le vaccinazioni in attesa di conoscere il destino di AstraZeneca. Sentiamo il servizio di Tommaso Costa. Non è più una curva in costante salita, ma dopo essere stata stazionaria da alcuni giorni è leggermente in discesa. Almeno nel numero dei contagi. Si presenta così oggi il grafico che ogni giorno ci racconta i numeri e l'andamento dei contagi da coronavirus in Emilia-Romagna. Oggi sono 2.026 in più rispetto a ieri su un totale di 37.456 tamponi che sono stati eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 5,4%. Bologna è ancora la città dove il virus corre di più, con 422 nuovi contagi. Poi Rimini 261, Ravenna 216 e Reggio Emilia 215. Un occhio sempre attento è rivolto anche agli ospedali. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 381, 3 in più rispetto a ieri, e 3.542 quelli negli altri reparti Covid, con più 28 persone ricoverate. Purtroppo ancora troppo i decessi. Sono 52 quelli di oggi, concentrati soprattutto tra le province di Bologna, Forlì-Cesena e Reggio Emilia. E nonostante la questione relativa alla sospensione del vaccino AstraZeneca, prosegue anche la campagna vaccinale tra prenotazioni e inoculazioni. Sono arrivati a 206 mila le persone che risultano completamente immunizzate. E proprio gli immuni potrebbero avere un futuro più facile per viaggiare in Europa nei prossimi mesi. In queste ore si sta discutendo sulla possibilità di ottenere un passaporto vaccinale che consentirebbe di muoversi con più agilità all'interno dei confini europei. Il confronto però è solo all'inizio. E proprio a proposito di vaccini, andiamo a vedere com'è la situazione delle prenotazioni per gli over 75 in regione dopo il blocco di AstraZeneca. Intanto, dopo l'ordinanza del commissario all'emergenza Covid, Giuseppe Figliuolo, arriva la richiesta di un coordinamento regionale per gestire le dosi avanzate a fine giornata. Sentiamo Vittorio Pastanella. In attesa del pronunciamento definitivo dell'EMA su AstraZeneca, atteso per domani, prosegue la campagna vaccinale anti-Covid in Emilia-Romagna. Come è annunciato, il blocco temporaneo del Sera a livello nazionale non ha affermato le prenotazioni per gli over 75, che erano partite lunedì scorso con un boom di 90 mila richieste in poche ore. La necessità di trovare nuove date per chi si era prenotato e avrebbe dovuto essere immunizzato col vaccino bloccato permetterà però di fare un punto preciso sull'andamento delle prenotazioni a livello regionale per questa fascia d'età, probabilmente solo nel fine settimana, anche se da più parti si parla di un forte calo dopo il boom iniziale. Il totale delle persone in regione fra i 75 e i 79 anni potenzialmente interessate dalla vaccinazione è di 210 mila unità, anche se alcune di loro fanno parte delle oltre 740 mila persone estremamente vulnerabili per motivi di salute che sono state prese automaticamente in carico sempre dall'unidì scorso dalle aziende sanitarie di appartenenza. Intanto, dopo l'ordinanza del commissario Francesco Figliuolo sulla somministrazione a soggetti disponibili delle dose avanzate a fine giornata a causa di prenotazioni disdette che se non venissero utilizzate verrebbero buttate, il consigliere regionale Matteo Daffadà del Partito Democratico ha presentato un'interrogazione in Assemblea Legislativa. Nel documento si chiede che la Regione istituisca un protocollo antispreco e preveda in anticipo una lista di persone fra le categorie più a rischio e più fragili a cui somministrare il vaccino. Al momento, su questo punto, si registra solo l'esistenza di liste parallele senza un coordinamento regionale che potrebbe però arrivare già nei prossimi giorni. E la richiesta di un coordinamento unico regionale delle dosi di vaccino avanzate è arrivato anche da parte della Capogruppo 5 Stelle in Regione Silvia Piccinini. Ma intanto sono quasi 10 milioni di euro, quelli destinate alle attività più colpite dal Covid, di questi un milione sono per i maestri di sci, discipline alpine, fondo e snowboard, attività che hanno visto praticamente azzerata l'ultima stagione di lavoro. Il progetto di legge è firmato dalla Giunta regionale che prevede ristori non solo per questo comparto ma per il turismo, la cultura, la ristorazione senza somministrazione come ad esempio quella sui treni e sulle navi e anche per il terzo settore è all'esame delle commissioni consigliari e arriverà in aula per il via libera dell'Assemblea legislativa entro la fine del mese. E domani ricorre la prima giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia istituita dal Parlamento. In Emilia-Romagna sono 11.236 le persone decedute, 103.000 fino a ieri in Italia. Il presidente della Giunta regionale Stefano Bonaccini e l'assessore alle politiche per la salute Raffaele Donini esprimono il proprio cordoglio per chi ha perso la vita a causa dell'epidemia e ribadiscono l'impegno della regione a contrastarne la diffusione con ogni mezzo. E passiamo alla pagina politica. Ciao, ho deciso di annunciare la mia candidatura a sindaco di Bologna, la città dove sono nato e intendo crescere i miei figli, Irma e Orlando. E con queste parole postate sulla sua pagina Facebook che Matteo Lepore, assessore alla cultura, ufficializza la sua gara primo cittadino sotto le due torri. L'assessore poi ufficializzerà la sua decisione domani durante la direzione del PD. Diversi gli appoggi già ricevuti, oltre a quella del sindaco uscente Virginio Merora, Lepore può contare anche su quello del deputato Dema Andrea De Maria. Ma l'assessore Alberto Aitini non si tira indietro e ritiene di poter essere il candidato unitario capace di ricompattare il PD. Da oggi inizia dunque un lungo percorso che porterà alla scelta del nuovo primo cittadino da capire se come e quando si svolgeranno le primarie in casa PD. Ancora coperto invece il nome del centrodestra che nelle prossime settimane dovrebbe svelare le proprie carte. Ed ora la cronaca. Pierluigi Barbieri, il sicario di Legna Fabri, uccisa il 6 febbraio scorso, scusate, nella sua casa a Faenza, ha confermato la confessione. L'uomo interrogato questa mattina in questura a Ravenna ha aggiunto altri particolari sul delitto della donna, ma il contenuto del verbale è stato secretato. Nei giorni scorsi Arianna, la figlia della vittima, aveva chiesto di poter incontrare sia il killer, sia il padre Claudio, anche lui in carcere, con l'accusa di essere il mandante dell'omicidio. Oggi il giudice ha rispinto l'istanza per il rischio di inquinamento delle prove. La figlia ha sempre difeso il padre, che secondo quanto dice avrebbe solo voluto spaventare la madre e non ucciderla. Quattro bombe americane della Seconda Guerra Mondiale sono state rinvenute durante l'attività di bonifica bellica della nuova Porretana e verranno disinnescate domenica a Casalecchio di Reno durante una delicata operazione del genio ferroviere di Castelmaggiore. Alle 6.30, grazie alla collaborazione tra le Forze dell'Ordine, la Protezione Civile e più di 80 volontari, inizieranno le operazioni di evacuazione della zona intorno a Via Zannoni. 125 le persone che dovranno lasciare la loro abitazione per l'intera giornata e 48 le attività produttive. Chi non ha trovato un appoggio da parenti o amici verrà ospitato in una struttura del comune. Chiuse le strade, i parchi, l'autostrada tra i caselli di Sassomarconi e Casalecchio di Reno ed anche la ferrovia. Per garantire una maggiore sicurezza alla popolazione per la prima volta verranno utilizzate delle strutture di protezione e contenimento che permettono di ridurre gli effetti di eventuali esplosioni accidentali e che sono il risultato di una lunga attività di sperimentazione portata a termine dall'esercito del comando Genio in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma. Grazie a queste strutture l'area di evacuazione è ridotta ad un raggio di circa 500 metri. Le bombe verranno poi fatte brillare alla cava di Pianoro. Ed ora lo sport. Se il Bologna ha continuato gli allenamenti in vista dell'incontro di sabato a Crotone nel basket si parla di un futuro con qualche nuvola per la fortidudo. Sentiamo Matteo Fogacci. Il Bologna è tornato in campo questa mattina in vista dell'incontro di sabato pomeriggio a Crotone contro gli ultimi della classe. Partita comunque da considerare difficile perché si tratta in pratica dell'ultima possibilità di tirarsi fuori da una retrocessione che pare oramai scontata e dunque si farà di tutto per rimanere in corsa. Per il Bologna comincia il periodo più difficile perché non avendo più obiettivi si è già cominciata la corsa al mercato del prossimo anno e i giocatori per non rischiare un finale da caporetto dovranno mantenere alta la concentrazione. La squadra che oggi ha svolto lavoro tattico divisi in gruppi non dovrebbe essere diversa da quella che ha battuto alla Sampdoria solo con il dubbio in avanti tra Sansone e Palacio. Per il basket si è aperta la discussione sul futuro della fortitudo dopo le parole del presidente Pavani alla conferenza stampa di presentazione delle maglie per il derby. Inoltre è uscita una lettera del presidente ai giocatori nella quale si fa sapere che gli stipendi verranno congelati per cercare in loro il massimo impegno. Solo ieri Pavani ha fatto capire con pochi giri di parole che se la situazione continuerà in questo modo la compagine societaria farà fatica a mantenere gli impegni e i progetti e che dunque qualche nuvola sul futuro non solo sportivo della società esiste. Sul campo si attende di capire se le retrocessioni saranno bloccate. A quel punto sarà evitato qualsiasi investimento che non sia necessario in vista di una nuova stagione che se avrà il pubblico potrà dare modo alla società di ottenere nuova linfa. In caso contrario ci sono molte porte aperte. Sulla situazione difficile della squadra sono intervenuti i tifosi della Fossa che in un comunicato hanno scritto riteniamo che i problemi alla base della situazione attuale possano derivare da molteplici cause. Sicuramente una grossa parte di responsabilità è da imputare alla società che negli ultimi anni non ha adeguatamente operato come ci eravamo prefissati al momento della ripartenza. L'altra parte di colpe è da attribuire ai giocatori. Poca coesione, disinteresse e soprattutto scarsa determinazione. Non tanto nel dover vincere ogni volta quanto più nel trasmettere il nostro ideale ovvero metterci la fotta fino all'ultimo secondo. Tutto questo, sicuramente unito alle difficoltà generate dal periodo che stiamo vivendo con la lontananza forzata dei tifosi sta portando a un finale che non ci sta rendendo onore. Al momento l'obiettivo fondamentale è la salvezza raggiungibile con la consapevolezza da parte di tutti di cosa voglia dire dirigere giocare e anche tifare fortitudo. Si conclude qui il nostro notiziario l'appuntamento è per domani sera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.